Il babbo invece è... Quella cagnarina è molto bella. Sì, date i buoni. Oh ragazzi, il problema è quello lì. E' lei, ma non è la madre di lei. Ah, non è la madre di lei? No, no. E' solo il babbo. E questa invece? La madre nostra e il babbo. Questa è la madre. Appena lo stop. Appena appena c'è. Adesso c'è quel particolare. Invece l'altra sorella che l'ha un pochino di qua è un pochino più stoppata. Non ce l'ha più stoppata. Ce l'ha di più. Ce l'ha un pochino di più. Infatti è stata una scelta ardua. Allora questa nel portamento ci piaceva più. Ecco, è stata fatta una scelta su questa base. La cucciolina era regge. Era nella gabbia con la madre. L'esposizione me l'hanno portata lì. Allora, l'hai fatto cazzo. Sì, beh, erano danni. Ma è bella anche quella. Sì, no, ma è bella. È bella anche quella lì. È un po' più leggera. Sì, me lo diceva, sì. Io non me la ricordo di averla vista così. è un po' più leggera. E poi anche come cosa abbiamo. No, è così. Grazie.